...vedere e sentirli su quel palco da tappeto rosso... giusto Raffaele? giusto... giusto... ...viviamo un momento molto bello che mi sta particolarmente a cuore... ...l'associazione Amici del Catuozzo di Piedimonte Matese, Rione Vallata... ...organizza ogni anno la festa del Catuozzo, ben 16 giorni propone con passione... ...la vita quotidiana e le tradizioni dei carbonari del Matese, carbonari... ...il loro ballo, la ballarella, esprime tutta la gioia dei carbonari... ...che festeggiano la fine della giornata di lavoro e il ritorno nella loro capanna... ...attenzione, chi erano i carbonari? Erano degli abitanti di Piedimonte Matese... ...che risiedevano proprio nel quartiere Vallata e lasciavano le proprie case... ...pensate, per circa sei mesi per andare sui monti per estrarre il carbone... ...queste notizie le ho avute, ringrazio in modo particolare www.verdematese.it... ...abbiamo qui un rappresentante che ci sta riprendendo in questo momento... ...quindi andremo anche su questo sito e saluto tutti gli amici... ...i nostri amici che ci stanno seguendo sul sito www.verdematese.it... ...signore e signori, l'associazione Amici del Catuozzo di Piedimonte Matese... ...Rione Vallata ha organizzato per voi questo momento... ... Grazie a tutti. 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 Allora, signori.